Ciao a tutti ragazzi per lei su Nervillage, oggi siamo qua al volo su un vlog perché come sapete solitamente quando c'è il giorno della live tendo diciamo a non mettere contenuti troppo così ma soprattutto oggi ci tenevo a fare questo video perché ho delle cose da dirvi, come al solito sarà tutto senza tagli perché sarà molto breve quindi andiamo subito in ordine. Ho aperto un profilo di Twitter che vi metterò qua sotto in iscrizione assieme agli altri social quindi visto che l'ho appena aperto se volete andarmi a fare il favore di lasciare un following vi sarò molto grato naturalmente oltre a Twitter non tralasciate i vecchi social che già esistono quindi la pagina di Facebook, Instagram e Telegram. Soprattutto sulla pagina di Facebook volevo alzare un attimo diciamo il punto perché ho indetto una sorta di concorso diciamo il meme village praticamente sulla pagina di Facebook o comunque in giro per il web troverete sicuramente potete anche screenshotarlo dal trailer la faccia di Jigglypuff del film di Pokemon Detective Pikachu incazzato quello che sta così. Quindi ho deciso di prendere quella faccia quel fotogramma come base per un meme il più divertente verrà scelto quindi voi dovete andare a prendere la base di Jigglypuff farci un meme sto incasinando l'inquadratura farci un meme mandarmelo o sulla pagina di Facebook dove c'è un po' spinnato in alto e nei commenti dovrete mettere il vostro meme oppure mandarmelo su Instagram se non avete Facebook. In alternativa me lo potete diciamo mandare su YouTube ma non penso si possano stare delle immagini comunque il più divertente verrà scelto e chi verrà scelto mi potrà mandare un team che utilizzerò in un episodio di Ranked è accettata ragazzi qualsiasi cosa. Unica regola importante il meme deve essere tematico su di me o sul canale quindi su tutto quello che è successo nei video o comunque su di me in generale perché mi hanno mandato dei meme però non li ho potuti accettare perché era roba tipo Netflix non funziona hai la mamma delle specs cioè una cosa del genere quindi essendo una cosa del party essendo una cosa mia non è tematico. Deve essere su di me perché me deve far morire da ride quindi viva l'auto ironia detto questo non penso che ci siano altre cose da dire ragazzi la live di stasera sarà una bomba perché a parte che vi annuncerò una cosa. Che sto facendo con la sorella di chiara di pokemon millennium quindi hype al massimo poi andremo a buildare un team attorno a volcarona quindi preparate tutte le vostre idee magari cominciate anche a lasciarle qua sotto nei commenti in modo che io possa leggerle ci tengo a fare un team su volcarona perché mi è entrato in fissa da ieri e non ci voglio buildare perché voglio aspettare voi quindi andiamo su volcarona. Non penso di essermi dimenticato qualcos'altro nel dubbio ne parleremo stasera oggi pomeriggio vado a prendere LPGE quindi non vedo l'ora ragazzi ci vediamo stasera lasciate un like commentate il video mi raccomando twitter facebook instagram meme per il concorso ogni cosa che dico trema il telefono perché sono un mongo spastico bella per voi ragazzi.